Andiamo un po', stiamo cercando la prima donna, qua arrivano al traguardo nell'applauso del nostro pubblico e dei nostri ragazzi ancora con Mali e del circuito Rixia da difendere. E' la prima donna, la prima donna, la stiamo cercando, potrebbe essere il 2021 ma non tocca a noi raccontarvelo prima, tocca a lei arrivare sul traguardo per confermarcelo, mentre Johnny Cantaneo sta per chiudere la parte della discesa e quindi davvero sta volando verso il traguardo, non vede l'ora, ma era normale di arrivare sotto questi gonfiabili, il gonfiabile nero della Trek. In fondo vedo qualcuno che si diletta anche ad arrivare su una ruota, eccoli qua al traguardo, una ruota, una mano, li vediamo al traguardo, andiamo con l'applauso. In fondo ancora un gruppo. E' di al traguardo ma a noi tocca di cercare, con lo guardo la prima donna, si alza e con ragione, il braccio a cielo. Potrebbe non essere lontana, la prima donna al traguardo, mentre riconosciamo le maglie della New Line Rovolone, li sfruttiamo con piacere. Tanto farei tutti i complimenti a tutti quelli che hanno chilometri di percorso, non è comunque semplice. Vediamo un po' se ritroviamo la prima donna. Nella stanchezza del percorso di sicuro questo sole comunque non aiuta a rinfrescarsi, anzi aiuta a perdere ulteriormente le energie. Condizione nuova quest'oggi, eravamo abituati alla pioggia negli ultimi giorni, anche se per la verità nel mese di aprile il caldo si era fatto settimana. Il percorso di questa venterima edizione della Contra d'Aurobaica, un sole spietato, si ha picchiato molto sulle teste, sui caschi, sulle schiene dei nostri ragazzi che adesso arrivano all'altra guarda. Quando noi cerchiamo all'orizzonte di trovare la prima donna, potrebbe... Questa mi sembra un po' barbuta. Questa no. Allora in fondo potrebbe o potrei... No, non ancora, io ricordo loro ai nostri atleti, la donna massaggi per loro per recuperare un po' di energie e poi perché no? Ricordiamo, riconoscibile dal numero di gara 2, perché se c'era segnalato magari lo smarrimento del numero di gara, ma il suo incedere sicuramente potente. La civica intanto già esposta e lo ricordo allora, donna massaggi, perché no? Un sguardo alle... Da per arrivare! Altra guarda!